Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi benvenuti in un nuovo video ASMR Challenge se ti addormenti perdi in questo video cercherò a tutti i costi di farti addormentare farò diversi suoni che spero potranno rilassarti al massimo tra cui il primo è il suono di questa collana se mi segui da un po' l'avrei già vista dimenticavo per una nuova challenge l'obiettivo questa volta è alto 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 cioè 18.000 like quindi se ti piace questa challenge sai cosa fare? ok adoro il suono di questa collana volevo cominciare sciogliendo un po' i tuoi muscoli e togliendo un po' i tuoi pensieri allora per togliere i miei pensieri ho la mia solita tecnica e ciò è prendo zac e soffio via prendo prendo taglio e soffio via soffio con me se vuoi per allontanarli del tutto via via e... prendo prendo e ora prendo questi due ci siamo a questo punto per invece scioglierti i muscoli questo stupendo cuscino per il collo che a parte fare un suono strepitoso che a parte fare un suono strepitoso è anche utile se scaldato a microonde per alleviare le tensioni del collo quindi adesso lo metterò dietro al tuo collo e ti farò anche un leggero massaggio sia con questo che con un olio da massaggio puoi sentire l'odore questo è legno di girmolo uno forse in legno più profumato in assoluto io ho diverse cuscine di legno di girmolo riescono a far profumare la stanza sono meravigliosi e gli occhi sono strepitoso a me avviso ecco qui e adesso facciamo un bel massaggio fagliamo i muscoli e le tensioni come stai? non lo so vado meglio prima abbiamo rilassato la mente e adesso rilasseremo anche il corpo è molto importante curare il collo e le spalle perché si accumula tanta tensione qui non fondamentali nella nostra vita e vanno curati mi sembra importante prendersi cura del proprio corpo perché è come se fosse il nostro veicolo che ci porta a vivere la vita come vogliamo e dobbiamo essere molto grati e poi un olio da massaggio questo è principalmente fatto da arnica ma anche del mentolo e della canfora quindi c'è un po' di raffreddore puoi annusare e stappa il naso in un secondo ramentolo, canfora, apre le vie respiratorie che è una meraviglia e adesso sulle spalle quando te l'applicherò sentirai un po' di calore questo è il tipico effetto dell'arnica è normale ma dovrebbe essere anche piacevole quindi la ok allora le metto un po' sulle mani ok allora le metto un po' sulle mani e vado sulle spalle ancora un po' ce ne vuole questo è un olio molto molto secco non è un olio che lascia dell'unto sulla pelle assolutamente ok prima ci concentriamo sulla spalla andiamo anche un po' sul collo ok 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 bene adesso mi concentro ok ok su questa zona qui e qui questa zona è famosa per essere per essere una zona in cui si accumula tantissimo anche dolore quindi andiamo a lavorarla bene può un po' fare male all'inizio però fa tanto tanto bene anche un po' le spalle ecco qui benissimo molto meglio molto meglio lo so lo so la frizione all'arnica con olio essenziale di pinoco è un antico rimedio quello ancora del corpo da utilizzare per il massaggio muscolare ed ottenere un'immediata e durata sensazione di benessere ottimo soprattutto per i massaggi dopo l'attività sportiva prezionare il prodotto sulla parte interessante ora ho per te due suoni molto 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 interessanti è il suono di questa stuccia dentro ci sono moltissimi pennarelli anche io devo essere sincera non lo so tantissimo però quanto è bello questo suono vogliamo parlarne così cosa qui grazie potrei continuare così per ore non so voi qui dentro c'è anche il rossetto che indosso bellissimo ancora è stupendo ok passiamo all'altro suono molto interessante non so se avete mai fatto non so se da voi quando erano piccoli andava però a un campo estivo agli campestini quando si diceva la parola interessante si rispondeva andiamo a chiamare un altro elefante ovviamente avvenuti in mente così scusate allora il suono in questione è il suono di questo scrub che adesso ovviamente prenderemo che è fatto con zucchero, miele e quell'aceto, quell'olio di arnica non è assolutamente adatto questo anzi non è uno scrub tutto ciò che volevo ottenere io e non sono interessante non me lo metterei mai sul viso però che suono è non sono stupendo non sono stupendo però uno scrub alle mani in realtà magari un altro olio però non dovrebbe essere neanche così male perché la pelle delle mani comunque è molto meno delicata di quella del viso guardate le mie mani guardate le mie mani non so se vedete i granuli di zucchero parola ora ancora lavarmi le mani e ci ripetiamo eccomi di nuovo qui anche se non avrete visto nessuna differenza allora, adesso per finire il video rilassante farò il solito countdown da 1 a 20, un pochino in inaudible e dopo vi darò la buonanotte quant'adoro questa guarda siete pronti? 20 19 19 18 17 19 19 19 20 20 20 20 21 21 23 24 24 25 24 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 30 31 33 33 sei cinque quattro tre due uno zero buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte sueñitor buona notte buona notte buenas noches dulces sueños buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte sueñitor fate dei bei sogni mi raccomando anche d'occhio aperti se volete un pochino bisogna sognare nella vita sai? non troppo però un pochino io vi mando un bacio nell'ora spero noi questo video vi abbia rilassato a pieno e noi ci vediamo al prossimo video un bacione che l'espero che l'espero che l'espero che l'espero ci vuole che ci mejore lo bocino che la